Sarà perché non vedo l'ora che questa stagione finisca, sarà che ormai la vedo come una stagione fallimentare, sarà che in campionato non penso possiamo più raggiungere Juventus e Inter perché stanno viaggiando troppo velocemente, non si fermano, noi sì siamo in un buon periodo, ne abbiamo vinto un po' di fila ma tanto l'inculata è dietro l'angolo e quindi non credo che alla fine riusciremo mai ad avvicinarci, potremmo magari avvicinarci a una delle due ma tutte e due vederle perdere punti per farci rientrare nella corsa Scudetto non ce le vedo proprio e non credo neanche che quest'anno siamo all'altezza perché bisogna anche ammetterlo, poi magari tutto può succedere nel calcio ma il Milan in questo momento ha dimostrato di non essere all'altezza per vincere lo Scudetto in questa stagione, sarà che quelle dietro stanno una peggio dell'altra e quindi questo terzo posto ci pone lì in quel limbo che è la cosa peggiore del mondo, la cosa più noiosa di tutte, preferisco più andarmela all'ottima perché almeno degli stimoli nel seguire il campionato che così rimanere lì nella terra di mezzo con quelle avanti, troppo avanti, quelle dietro, troppo indietro e noi lì nel mezzo a non fare nulla quindi una stagione abbastanza deprimente, si segue il Milan perché lo si ama perché ogni partita anche le amichevoli diventano importanti quando c'è i colori rossoneri in campo però in realtà ragazzi alla fine è una stagione abbastanza noiosa, in Champions League siamo fuori, in Coppa Italia siamo fuori, l'Europa League sta per me acquisita un valore molto importante in questa stagione perché è davvero uno dei pochi obiettivi che possiamo veramente portare fino in fondo ma siamo arrivati al 17 gennaio e ragazzi non abbiamo fatto un mercato, cioè questo gennaio è passato talmente così veloce che abbiamo già superato la metà del mese, abbiamo fatto ritornare Gabbia dal Villareal che si sta comportando anche bene, acquisto utile perché nell'emergenza totale della difesa e poi abbiamo preso questo terracciano, ragazzo giovane, buone speranze, si vedrà in futuro se sarà un acquisto azzeccato o no ma poi basta, poi sono due settimane che continuano a parlare di questo buongiorno del Torino che un giorno lo danno per fatto, il giorno dopo lo danno impossibile molti mi avete addirittura chiesto dici cosa ne pensi del possibile acquisto, dell'imminente acquisto di buongiorno quando in realtà ragazzi di imminente non c'è praticamente nulla e non credo che buongiorno possa essere un acquisto da gennaio perché uno lo stai andando a comprare al Torino e c'è Cairo e io da Cairo non comprerei neanche un portachiavi onestamente perché là iniziano a sparare come al solito 35-40 milioni per buongiorno che per carità di Dio è un ottimo giocatore, potrebbe fare benissimo nel Milan ma il Milan ha veramente bisogno di spendere 35 milioni per un difensore centrale? Quando in attacco abbiamo Jovic che se Dio ce la manda a buono ogni tanto la gioca bene ma non è un attaccante che può essere considerato un attaccante da Milan, ok? Non vi fate prendere per il culo, io sono pure contento quando segna, quando fa gol, quando fa bene ma può fare al massimo proprio la terza punta nel Milan abbiamo un Giroud che sì ogni tanto sforna la grande prestazione, il golletto lo fa ogni tanto ma in là con l'età l'anno prossimo io credo che Giroud debba andare a prescindere da quale sarà la sua decisione perché non si capisce se può andare da qualche altra parte dove gli daranno tanti soldi o se deve rinnovare, io ne sento a prescindere Giroud deve andare quindi al Milan diciamo che in attacco sta messo abbastanza male e se c'è un acquisto che dovevamo fare a gennaio era proprio quello dell'attaccante noi dicevamo tra virgolette per scherzare, ah magari adesso c'è Jovic e vedete che l'attaccante non lo prendono più ma ragazzi ma qua mi sa che davvero l'attaccante non lo prendono più, con questa roba poi del decreto crescita hanno smesso completamente di parlarne io quando sento parlare di calcio a mercato del Milan non sento parlare di attaccante, non sento parlare di centrocampista sento soltanto parlare di difensore, quando è a centrocampo abbiamo anche perso Krunic che magari, meno male, ringraziamo Dio che se n'è andato, una palla al piede, ma comunque l'hai perso tralasciando il fatto che c'è Ben Nasser in Coppa d'Africa va bene, ritorneranno quei giocatori, proprio per questo serve però le mancanze nella rosa e buongiorno onestamente non è una mancanza nella rosa perché tra un mese Massimo avremo Tomori, riavremo Ciao, rientrerà prima o poi Caluru comunque a difensore centrali siamo messi bene cioè buongiorno, devi venire a fare il titolare quando rientreranno tutti, chi sarà il titolare, chi va a fare panchina Ciao che secondo me è uno dei prospetti più importanti che ci siano in Europa quindi non lo so, poi trattativa per buongiorno andiamo ad analizzarla nel dettaglio, visto che mi avete detto parla di questo acquisto perché io non devo parlare del giocatore, perché il giocatore è forte non ho bisogno di presentarvelo io buongiorno, lo conosciamo, un giocatore fortissimo giocatore che conosce la Serie A quindi sarebbe perfetto ma, tralasciando il fatto che Cairo chiede 35-40 milioni di euro tralasciando il fatto che il Milan per adesso l'offerta ufficiale sarebbe quella di 15 milioni di euro perché noi siamo sempre così, se chiedono 100 noi offriamo 1 sono sempre così, cambiano i dirigenti, cambiano la società ma noi siamo sempre così chiedono 35 e noi offriamo 10 vabbè, comunque l'offerta ufficiale tra virgolette del Milan parola di Di Marzo dovrebbe essere sui 15 milioni di euro più il cartellino di Colombo ok? il Milan valuta Colombo 15 milioni di euro molto ottimistica come valutazione però il Torino innanzitutto non lo valuta 15 milioni di euro poi c'è da convincere il Monza che non ce l'ha poi l'attaccante deve andare a trovare un'altra attaccante e stiamo parlando sempre che siamo al 17 gennaio trattative che soltanto per prendersi un bicchiere d'acqua ci mettono due settimane cioè, buongiorno adesso ha incontrato il suo procuratore Beppe Riso adesso, dopo che si parla da due settimane proprio perché quelli del Torino gli hanno dato un giorno libero lui è andato a Milano e ha incontrato che poi non è che serve incontrarsi puoi anche parlare al telefono di queste cose ma comunque, 15 milioni più Colombo che devi poi convincere il Monza a darlo cosa che non gliene frega niente al Torino l'offerta dovrebbe ma non secondo Cairo questo è sempre secondo i vari esperti di mercato dovrebbero arrivare a 25 milioni più il cartellino di Colombo per poterne discutere ma questo lo dicono i giornalisti perché dalla parte poi Torino quello che esce è che non vogliono contropartite non gli interessa Colombo non vogliono contropartite vogliono 35-40 milioni cash quindi onestamente non è innanzitutto una trattativa di gennaio non la puoi fare due non è così urgente andare a prendere un difensore visto che comunque è ritornato Gabbia ci abbiamo Kier ci abbiamo Simic Teo Hernandez può fare il difensore centrale rientreranno spero prima o poi Ciao e Tomori che sono due difensori fortissimi quindi onestamente se dobbiamo andare a consumare il budget il misero budget che il Milan mette a disposizione onestamente ripeto non ce lo vedo un difensore centrale ci vedo più spendere 35 milioni per comprare un vero attaccante un attaccante che poi dimostrerà nei prossimi anni di poter fare l'attaccante titolare del Milan è questo che ci serve l'anno prossimo Giroud non ci sarà Jovic è quel che è con chi giochiamo cioè non esiste per di più una trattativa che è lontanissima dall'estere chiusa e ne parlano ieri apertura di buongiorno al Milan ah buongiorno direi io buongiorno aperto al Milan minchia dal Torino passi al Milan ti raddoppiano triplicano l'ingaggio e tu hai dato un'apertura grazie meno male buongiorno pensavo volevi rimanere a vita al Torino grazie che cosa doveva fare doveva dire no non vengo non voglio il triplo dello stipendio cioè è abbastanza scontato che buongiorno voglia venire al Milan non credo sia una notizia così clamorosa ma è il Torino che deve aprire a buongiorno al Milan non buongiorno eh poi arriviamo dall'altra parte diciamo eh ma le trattative come si fanno cioè io poi vado a leggere l'Inter in chiusura per Zilischi a parametro zero per Taremi a parametro zero Taremi mi ricorda molto l'avventura Turam preso 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 commissioni salta tutto arriva Marotta paga le commissioni e beh impariamo anche magari a pagarle queste commissioni no perché prendere un giocatore a zero per poi pagare 10-15 milioni di commissioni alla fine comunque sempre che ci sta andando a guadagnare no noi dobbiamo andare a spendere 30-35 milioni di euro per comprare dei giocatori per dire no io non ho pagato le commissioni beh a sto punto magari sarebbe meglio prenderli a zero e pagare le commissioni cioè se siamo arrivati a questo punto ormai che comandano i calciatori non comandano più le società mettiti d'accordo con i perché Taremi era chiusa ragazzi Taremi era chiusa voi sono spuntate queste commissioni queste commissioni e niente non si è fatto più niente perché perché è arrivato qualcuno a dire aspettate non ve ne andate via adesso aspettate l'anno prossimo che vi paghiamo le commissioni e quel qualcuno era proprio Marotta che si è inserito con l'Inter a rompere le palle di nuovo al Milan però che li vuoi dire all'Inter devi dire che lavorano meglio di noi perché lavorano meglio di noi se si prendono Zilischi e Taremi a zero scusate quindi viva le commissioni a sto punto se dobbiamo andare a pagare buongiorno 35 milioni di euro onestamente preferisco altro poi l'altra notizia che è uscita questa la popola andiamo a trattare nel finale come cioccolatino per noi rossoneri ci hanno rotto i coglioni con Antonio Conte Antonio Conte è un passo dal Milan Criscidella ha dato la notizia che Conte vuole il Milan non ci sarebbero altre squadre per Conte quindi il Milan è ormai un passo ma arriva Di Marzio non c'è stato nessun contatto Conte-Milan voi mi dovete dire con un allenatore come Pioli che ormai è già andato via cioè Pioli è già stato esonerato finirà la stagione e andrà via quindi il Milan già sa che l'anno prossimo deve cercare un allenatore Conte è libero in questo momento potrebbe ricevere offerte quindi devi cercare di andarla a bloccare il prima possibile tu non sei mai andato a contattare Conte e la pista Conte è quella più probabile non lo so non vorrei avere ragione perché in questo caso spero con tutto il cuore di avere torto perché io ve l'ho detto questa società non può avere un allenatore come Conte se quando sono uscite tutte queste notizie con Criscidiello quell'altro quell'altro apre al Milan è pronto per il Milan il Milan è pronto a dargli anche l'ingaggio e tutto quanto io ero sorpresissimo ma sorpreso in maniera positiva se mi sbaglio e il Milan fa più di quello che io mi possa mai aspettare io sono la persona più felice del mondo a sbagliarmi ma purtroppo sembra che non è così cioè qua si parla di Tiago Motta cioè Di Marzia ha detto che Tiago Motta ha la possibilità cioè Tiago Motta cioè tu prendi Tiago Motta cioè cosa cambia con Pioli Tiago Motta cioè ma stiamo scherzando ma io non è che voglio andare a criticare l'allenatore che ancora deve arrivare ma Tiago Motta quindi per carità di Dio non mi fate incazzare già da adesso e cercate di dare le notizie vere e chi si è esposto per Conte che parli adesso e dica qualcosa su quello che ha detto Di Marzo che non c'è stato nessun contatto quindi vedete di uscire le palle visto che fino a mo' state illudendo i tifosi del Milan perché dopo Conte se tu vai a prendere Tiago Motta onestamente io vi sputo in faccia quindi cercate adesso di dire quello che avete detto continuate a proclamare Conte allenatore del Milan non tiratevi adesso indietro non vi cagate sotto avete detto che Conte è vicino al Milan adesso continuate a dirlo perché adesso ci scocciamo e ci rompiamo i coglioni sempre Forza Milan Bella